Il progetto sperimentale per la messa a sistema dei servizi della mediazione interculturale è un progetto finanziato con fondi POR FSE 2014-2020. Il progetto nasce per rispondere in maniera adeguata a quelle che sono le esigenze dettate dal flusso miratorio che sta interessando specialmente in questi ultimi anni la regione Sardegna. Per far fronte a queste nuove esigenze l'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro ha realizzato sull'intero territorio regionale un servizio di mediazione interculturale con la finalità di favorire l'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini immigrati. Il servizio, attraverso un team di circa 20 professionisti tra coordinatori e mediatori linguistico-culturali, interviene per facilitare il rapporto tra i servizi locali e i cittadini stranieri supportando gli immigrati nel decifrare i valori e le norme della società di accoglienza affinché possano godere appieno di quelli che sono i diritti che vengono loro riconosciuti e soprattutto possano conoscere e accedere a tutti i servizi presenti sul territorio. Il servizio viene erogato principalmente presso gli STEMI, ovvero gli sportelli territoriali per la mediazione interculturale. Ogni cittadino straniero che volesse usufruire di questo servizio si può recare presso la maggior parte dei centri per l'impiego della Sardegna dove sono attivi gli STEMI. Gli STEMI, oltre ad offrire un servizio innovativo rivolto alla popolazione immigrata, grazie alla firma di alcuni protocolli operativi, risponde anche a quelle che sono le richieste di mediazione interculturale provenienti dalle istituzioni pubbliche che interagiscono con i cittadini stranieri in differenti ambiti, in ambito sociale, in ambito lavorativo, in ambito culturale, in ambito scolastico o della giustizia per gli adulti e o della giustizia minorile. I mediatori pertanto, oltre a svolgere la propria attività presso i centri per l'impiego, intervengono direttamente anche nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture sanitarie o nei servizi territoriali che ne facciano richiesta, predisponendo interventi specialistici di mediazione interculturale su tutto il territorio regionale. In sintesi possiamo pertanto dire che il servizio di mediazione interculturale dell'agenzia Sard per le politiche attive del lavoro si pone come un servizio ponte tra il bisogno espresso dal cittadino straniero di inclusione sociale, di inclusione lavorativa e invece il bisogno espresso dalle pubbliche amministrazioni per cercare di rendere sempre più efficaci ed efficienti anche nei confronti dell'ottenza straniera i servizi offerti sul territorio. Grazie. 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 Grazie.